Mi ricorda, mi ricorda, mi ricorda, mi ricorda. Sai cosa ho ricordato di una cosa importante? Prego. Allora, adesso per la terapoliglia solo quando fa la pipì. Eh, perchè deve risistemarsi il pipì. Non riesce su queste gambe. E poi a volte trema. Francia. Ecco? Ecco? Si. Perchè il problema è il cuore, è localizzato il cuore. Quando io, quando la porto, c'è un ucine qua lì. Ti abbagliava la dolore su. Ecco non lo fai. Si vede che adesso non è. Eh, ma qua, guardi. Ci sono gli oggetti che zoppicano, poi arrivano qua e non zoppicano. C'è quello che invece sta bene. Ora arriva qua e zoppica, quindi sicuramente. Proprio fermo camminare. Faccia tinta di uscire che vedrai che dentro. Bene, venite ancora.